Nell'aula a Crucitti del Responsible Research Hospital, questa mattina si è svolto un evento speciale, il conferimento al personale dell'ospedale di uno speciale attestato di benemerenza per essersi distinto in opere meritorie. A consegnare gli attestati il Gran Maestro del Supremo Ordine dei Cavalieri di Malta, Gino Petrucci, ed il Gran Priore della Regione Molise, Maestro Freddy Luciani. Ho avuto la fortuna di essere qui ospite per una patologia importante tumorale, e quindi era proprio il periodo più caldo del Covid, quindi ho avuto delle cure eccezionali che chiaramente non dico di aver risolto, ma comunque sono stati eccezionali, umani e disponibili. Siamo veramente onorati di questo riconoscimento, non dico inaspettato, ma è un riconoscimento che va effettivamente al personale, a tutto il personale. Ho visto la lista dei collaboratori scelti a ricevere questa onoreficenza, che va veramente dal comparto fino ai dirigenti medici, ai nostri primari, ai capi di partimento. Quindi è un riconoscimento che veramente a tutti, a testimonianza di quel che già tutti noi sapevamo in Molise, è una struttura che da oltre vent'anni è a servizio dei molisani e degli italiani.